80 anni fa il fisico Ettore Majorana spariva nel nulla, ciò lo ha ricordato Federico Buffa in uno speciale su Sky Atlantic, pensate nel 1938 sulla Domenica del Corriere nella rubrica chi l'ha visto, ripeto chi l'ha visto, appariva un annuncio della scomparsa di questo grande fisico con alcune caratteristiche della persona fisica per poterlo ritrovare, da allora non si sa più nulla di lui, sono state scritte migliaia di pagine su questa scomparsa, anche perché lui era una figura eminente, faceva parte di quel gruppo di fisici di Via Panisperna e Enrico Fermi lo considerava il più geniale di tutti, eppure niente, Leonardo Sciascia ha scritto un bellissimo romanzo sulla sua scomparsa, immaginando che lui si sia ritirato in un convento. Invece Buffa ha portato delle prove che probabilmente Majorana è sparito in Venezuela, ci sono delle testimonianze di persone che l'hanno visto in Venezuela, ma insomma la ridda delle ipotesi è incredibile, lo hanno ucciso i servizi segreti americani perché avevano paura che aiutasse i tedeschi nella confezione della bomba atomica, è sparito per tanti motivi, perché era omosessuale, perché boh, insomma, perché non aveva più voglia di confrontarsi con gli altri. La definizione più bella è quella di Enrico Fermi, era una persona così geniale che se avesse deciso di sparire nessuno lo avrebbe più trovato.